Musica Cari amici e cari amiche di Angoli, ben ritrovati a tutti voi e grazie come sempre per essere in mia compagnia. In occasione della giornata nazionale per la donazione degli organi che quest'anno ricorre il 16 aprile ripartono gli appuntamenti di approfondimento con ASST L'Ariana e parleremo proprio di questo argomento con le mie prime ospiti. Io saluto e ringrazio Susanna Peverelli responsabile del coordinamento e prelievo organi di ASST L'Ariana, grazie e benvenuta ad Angoli. Grazie. E saluto e ringrazio Laura Rosario Maria, infermiera del coordinamento prelievo organi di ASST L'Ariana, grazie ad entrambe per essere qui. Quindi una data importante e soprattutto qualche cosa che serve tantissimo, quindi parleremo in questa nostra chiacchierata di attività di donazione e anche del ruolo di coordinamento. Partiamo subito con una prima domanda, perché donare? Perché donare? Perché l'attività di donazione è il presupposto obbligatorio, ma non una volta scontato, di tutte le attività di trapianto. Senza donazione di organi e tessuti non c'è nessuna attività di trapianto. E perché i pazienti in lista d'attesa in Italia in attesa di un trapianto sono circa 8500. Un numero costante negli ultimi anni, nonostante in Italia si effettuino circa 4500 trapianti all'anno. Questo perché a fronte di 4500 trapianti all'anno altrettanti pazienti entrano in lista d'attesa, mantenendo il numero dei pazienti in lista d'attesa più o meno costante. Quindi sono dei numeri significativi che ci fanno comprendere molto bene l'importanza, intanto di comprendere il significato di questa giornata, di questa attività e soprattutto di sposarla il più possibile. Se siete d'accordo abbiamo anche uno spot, così entriamo ancora di più su questo tema, ce lo vediamo insieme e poi ripartiamo da qui. Va bene? Va bene. Vai regia. Susanna, torno da lei. Quindi abbiamo detto numeri importanti e significativi. Quali altre informazioni vuole dare agli amici a casa che ci stanno ascoltando per entrare davvero con una grande considerazione e concretezza nel mondo della donazione degli organi? Allora, la prima informazione che voglio dare è che è importantissimo che noi in vita, coscienti, consapevoli, decidiamo cosa vogliamo fare su questo tema particolare, sulla donazione degli organi. Ma prima ancora di decidere di esprimere la nostra opinione, l'importanza è di informarci in maniera corretta su cosa vuol dire esprimere un sì o un no alla donazione. E cosa vuol dire informarci in maniera corretta? Informarci da fonti attendibili. Questo significa che può esserci della confusione, perché bisogna essere comunque ben informati. In particolare, quello che noi consigliamo è ovviamente, per chi ha dimestichezza con internet, l'utilizzo del sito del Centro Nazionale Trapianti, di come abbiamo visto adesso lo spot, dove si trovano tantissime informazioni in tema di donazione, i trapianti, i report annuali e tante altre informazioni. Per chi non avesse questa dimestichezza, il medico di base è il referente al quale chiedere informazioni. Questo perché? Perché la decisione deve essere una decisione consapevole e soprattutto perché, dalla nostra esperienza, quando abbiamo verificato che ci sono appunto delle dichiarazioni di opposizione, cioè sono no alla donazione, spesso sono legati a un'informazione non corretta o a delle paure che noi viviamo, ma che non esterniamo e non ci vengono chiarite. Brevemente, quali sono queste paure? La paura più frequente, che abbiamo così analizzato, riscontrato, è quella che i nostri organi vengano prelevati prima che sostanzialmente siamo morti, siamo morti effettivi. E questa è una paura che va scongiurata assolutamente. Non può accadere mai questa cosa, assolutamente no. Perché? Perché ci sono delle normative legali molto stringenti che impongono determinati accertamenti. L'accertamento di morte è una procedura medico-legale e le leggi italiane sono estremamente prudenti e garantiste, le più prudenti e garantiste di tutto il mondo. Quindi su questa è una paura che dobbiamo davvero scongiurare. Questo è un messaggio molto chiaro ma molto importante. Per cui le persone forse dicono no, perché temono, hanno questa incertezza. E allora il cittadino, dopo essersi informato in maniera completa come lei ha suggerito attraverso internet o attraverso il medico di famiglia, come può dare la propria volontà positiva alla donazione? Allora, ci sono tanti modi di esprimere la volontà alla donazione, ma alcuni di questi sono più efficaci. Quali? Quali? Il primo di questi è all'anagrafe del comune. Quando noi rinnoviamo la carta d'identità o il primo rilascio, il personale dell'anagrafe ci chiede la nostra opinione in merito alla donazione di organi e tessuti. Oppure negli sportelli di S.S.T. L'Ariana, sul sito di S.S.T. L'Ariana, all'interno del percorso per i pazienti, c'è una piccola sezione dedicata al coordinamento e lì si trovano gli sportelli di S.S.T. L'Ariana dove dichiarare la propria volontà. Di fatto non è complicato farlo? No. Oppure, ancora in maniera più semplice, scaricando l'app di Aido. In questo caso però serve o lo speed o la firma digitale. Questi tre sistemi sono i più importanti perché sono informatizzati e raggiungono il SIT, il Sistema Informativo Trapianti, che è un sistema che raccoglie tutte queste informazioni e le rende disponibili in tempo reale a tutti gli operatori della rete trapianti. Ciò vuol dire che io, Laura o qualunque operatore della rete trapianti hanno la possibilità di vedere in tempo reale, attraverso l'uso di un semplice computer, se il nostro potenziale donatore ha detto sì o no o non ha detto niente. Quindi è tutto molto chiaro, ancora delle domande da fare, il tempo stringe, quindi dobbiamo essere veloci, c'è ancora qualcosa da dire in merito? Ci sono altre possibilità che non raggiungono però questa cosa, cioè di scrivere su un foglio la propria volontà, datarlo e firmarlo e conservarlo. Su questa cosa però ci tengo a dire un'altra cosa. Se noi non dichiariamo niente... Cosa succede? Cosa succede? Succede che noi coinvolgiamo i nostri familiari più stretti in colloqui all'interno del percorso di donazione, per esempio della terapia intensiva e cosa chiediamo ai familiari? Chiediamo di essere i portavoci, i testimoni di quello che il potenziale donatore avrebbe voluto se avesse la possibilità di dircelo, di raccontarcelo. Quindi è un passaggio di responsabilità ai familiari stretti in qualche maniera di comunicazione? No, è un passaggio pesante in un momento molto doloroso, di lutto. Però se mi permettete, la nostra esperienza dei colloqui in terapia intensiva ogni volta ci commuovono perché i familiari in un momento davvero doloroso di un lutto, di persone molto giovani coinvolti in incidenti, ma anche molto anziani, quindi coniugi che hanno vissuto assieme tutta la vita, manifestano questa forte volontà alla donazione. È un momento, se si vuole, commovente, ma se decidiamo noi risparmiamo ai familiari questo momento. In un momento già molto delicato e molto doloroso. Io devo un po' correre, quindi vorrei passare per sentire anche la voce di Laura Rosario Maria all'altro aspetto della nostra chiacchierata, ovvero proprio il ruolo del coordinamento prelievo organi, che so essere poi il passaggio successivo molto importante. Abbiamo anche delle immagini e se me le vuole introdurre, la ascoltiamo. Prego. Allora, noi svolgiamo delle attività di supporto e reparti per quanto riguarda la donazione delle corne e la donazione multitessuto. In particolare siamo molto presenti in rianimazione perché lì si svolge la grande attività che è la donazione di organi. In particolare sono orgogliosa nel dire che l'anno scorso siamo riusciti ad identificare 21 pazienti, possibili potenziali donatori di organi, 5 dei quali con una particolare tecnica extracorporea che si chiama ECMO, che permette di ossigenare gli organi anche sostituendosi alla funzionità del cuore. Quindi vengono ossigenati anche con un cuore fermo. Grazie a questo ci ha permesso appunto di aumentare i potenziali donatori di organi. e volevo dire anche che questa particolare tecnica è supportata comunque da personale qualificato, sono degli operatori qualificati. Quindi è molto importante che ci sia questa tecnica a supporto perché immagino dia ulteriori possibilità. Sì, aumentando appunto i nostri potenziali donatori organi. Poi cosa facciamo sempre di supporto alla rianimazione? Sì, aiutiamo nell'idoneità del donatore. Cosa significa? Andiamo a fare degli esami, quali di laboratorio come esami del sangue, facciamo degli esami radiologici come TAC e tutti i servizi comunque a livello ospedaliero ci danno una grande mano e un gran supporto per arrivare a dare un grado di idoneità del donatore, se è un potenziale donatore per identificare questo. Durante tutto questo processo noi affianchiamo molto anche la famiglia, siamo di supporto in particolare in tutto il processo e li seguiamo anche dopo se ce n'è anche bisogno. Bisogno, certamente. Alla fine di tutto questo processo accompagniamo il donatore in sala operatoria dove viene accolto e dove la sala operatoria è anche pronta ad accogliere tutte le equip che arrivano da tutta Italia. Laura, in conclusione qual è il messaggio da far arrivare a casa? Allora, noi abbiamo fatto una campagna, accendi la luce. Questo grazie a chi? Grazie a Filippo, un trapiantato di corne che con la sua testimonianza ci ha portato una parola ricorrente che è ridare la luce. Quindi in questo accendi la luce. Grazie alle corne avere la possibilità di nuovo di vedere e quindi di cambiare la modalità di vita. Quindi donare il tessuto come le corne è importante anche se non è un salvavita come gli organi. Grazie. In conclusione davvero a Como si dona? Grazie a Como. L'indice del dono ha mostrato per quest'anno che Como è quarta nei comuni medio-grandi a livello nazionale ed è seconda in Lombardia. Quindi grazie davvero alla generosità dei comaschi. E quindi continuiamo a donare assolutamente. Grazie a Susanna Peverelli, grazie a Laura Rosario Maria, grazie a SST Lariana e grazie a tutti quelli che decidono di votare, di donare. Buon lavoro a tutti quanti e grazie. Grazie. Grazie anche a voi. Tra pochissimo torniamo insieme ad Angoli. Grazie a tutti.